Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo si avvicinarono a Gesù, Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli Maestro, vogliamo che tu ci faccia per noi quello che ti chiederemo Egli disse loro, che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero, concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra Gesù disse loro, voi non sapete quello che chiedete Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero, lo possiamo? E Gesù disse loro, il calice che io bevo anche voi lo berrete E nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo È per coloro per i quali è stato preparato Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimano Tra voi però non è così Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore E chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti Anche il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire Ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti Nel Vangelo di Matteo è la mamma che chiede a Gesù per i suoi ragazzi Giacomo e Giovanni di collocarsi uno a destra e uno a sinistra della sua gloria Quando entrerà nel regno Qui invece sono proprio loro due Loro due che si fanno avanti e fanno questa preghiera a Gesù La preghiera che ci fa anche un po' sorridere Ci fa sorridere il loro candore Vogliamo che tu ci faccia quello che noi ti chiederemo E Gesù sembra indulgere alla loro richiesta Che cosa volete che io vi faccia? Vogliamo essere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nella gloria Ecco qui devo spendere una parolina Su che cosa si intende per gloria Nella Bibbia La gloria non ha nulla a che fare con quello che nel mondo Si intende per fama, celebrità, riconoscimenti Laure e honoris causa e quant'altro Oppure il gol che risolve una partita Non è questa la gloria secondo la Bibbia Secondo la Bibbia la gloria è l'essenza stessa di Dio La sua gloria che si fa presenza Che si fa compagna di viaggio dell'uomo Pur senza perdere la sua grandezza e la sua trascendenza Lo vediamo per esempio nel cammino dell'Esodo Dove la gloria di Dio accompagna il popolo eletto verso la libertà Lo vediamo sul monte Sinai Dove la gloria si fa dieci parole per la libertà dell'uomo Lo vediamo nei salmi Dove è scritto I cieli narrano la gloria di Dio E il firmamento l'opera delle tue mani Ma Giovanni, l'Evangelista Quello che adesso chiede di essere alla destra o alla sinistra del Signore Un giorno ci dirà Che la gloria di Dio prende forma La forma di Gesù di Nazareth Come vedete nella preghiera di Giacomo e Giovanni C'è un equivoco Cioè identificare la gloria di Gesù con la gloria umana E allora Gesù dà una lezione chiarissima Una lezione che vale per noi Io la scontornerei attorno a due nuclei Il primo Guardare Gesù Guardare come Lui è nella gloria del Padre Perché è nell'obbedienza del Padre E la sua gloria consiste nel donare la sua vita Allora gli Apostoli devono capire che sì Gesù davvero è il Messia atteso Ma nella forma storica del servo sofferente Guardate, nella Sacra Scrittura in particolare Nel libro del profeta Isaia Ci sono quattro carmi misteriosi Quattro brani lirici Misteriosi perché gli esegeti I lettori della Bibbia Si sono sempre domandati A chi si riferiscono Quei quattro carmi Detti i carmi del servo sofferente Dove si parla di un personaggio misterioso Che è chiamato da Dio Per un ministero di salvezza e di redenzione Però deve passare attraverso la sofferenza E con la sua sofferenza Le genti vedranno la luce Gesù è sì il Messia atteso Ripeto Ma nella forma storica del Messia sofferente E questo lo tengano ben presente i suoi discepoli Questo teniamolo ben presente noi Il popolo messianico Che è nella forma storica del servo Allora non ci devono meravigliare Le fatiche della Chiesa I momenti di crisi, di sofferenza Santa come la sposa per il Signore Ma anche con le sue rughe Che lui purifica L'altro insegnamento L'altra lezione che Gesù dà Ai suoi discepoli Perché tutto il gruppo si era allertato Tutto il gruppo Sentendo che loro facevano questa richiesta Subiva La pressione della loro invidia Della loro indignazione anche Ma come sarebbe a dire che loro Devono stare uno a destra e uno a sinistra Ma perché? E noi chi siamo? Quindi anche i discepoli Sono ancora in questa mentalità E Gesù deve intervenire Il carrierismo L'aspirare a diventare di più Aspirare, ahimè, superare gli altri Sgomitare se necessario Di per sé la tensione a dare il massimo È una cosa buonissima Ma diventa carrierismo Nel momento in cui diventa Scartare gli altri Gesù propone In che modo superare il carrierismo? Se proprio volete darvi da fare Se volete gareggiare Ecco, gareggiate nello stimarvi a vicenda Nel farvi servi Nel mettervi a disposizione Mi viene in mente Un fatterello così Della mia vita di parroco Quando una delle maestre Della scuola di infanzia La casa dei bambini Si chiamava Si chiama ancora E che ha fatto fare una bella corsa I bambini Li ha messi tutti sulla linea di partenza Tutti schierati 3, 2, 1 Via! E tutti i bambini Sollevando anche un polverone Perché nel cortile C'era un po' di ghieina Un po' di sabbia Corrono verso il traguardo E ce n'è uno Che corre effettivamente più forte Forse più dotato E quando si vede da solo Davanti E si volta indietro E vede gli altri bambini Si ferma Li aspetta Bello il candore dei bambini Prendete questo paragone Come qualcosa che ci fa pensare Metterci a servizio Che non vuol dire paternalisticamente Dall'alto Delle proprie qualità Chinarsi sui poveri tapini Ma invece è farsi uno Sentire che il problema dell'altro È anche problema mio E allora mi do da fare Per aiutare Per servire appunto Mi piace molto leggere allora Questo Vangelo Anche nella prospettiva Del nostro programma pastorale Con la forza del suo Spirito Avere il coraggio Di abbracciare il mondo Che cos'è abbracciare il mondo Se non mettersi a servizio Sentire che il problema della gente Il problema dei giovani soprattutto Anche il grido del pianeta Ci appartiene Sabato Mi dispiace Che molti non lo sappiano Sabato Noi Entriamo Nella grande esperienza Del sinodo Un'esperienza stupenda Che il Papa ci propone Come discepoli del Signore Ricordando che siamo La comunità messianica Che prende la forma Storica Del servo E allora Che cos'è il sinodo? Non c'è il tempo per spiegarlo certamente Ma Sabato sera Nella chiesa di Murata Alle ore 20 e 45 Ci troveremo E condivideremo L'ardimento di Papa Francesco Che spalanchi i finestroni Della chiesa Per Aerare La chiesa Farle ritrovare sempre di più La sua La sua passione Per il Vangelo Che è passione di servizio E passione di amore Vi aspetto Ciao La sua passione di servizio E passione di servizio Grazie a tutti.